ciao a tutte pecorelle buongiorno e bentornati sul canale oggi vi propongo un tutorial uncinettoso in collaborazione con dui tu che mi ha gentilmente fornito il filato che utilizzeremo dui tu è un'azienda di e-commerce di materiale creativo italiana con sede a milano vi lascio il link del sito web giù nell'infobox dui tu appunto è un'azienda tutta italiana che vende online qualsiasi sorta di materiale creativo per tutti i tipi di lavorazione possibili e immaginabili dal lavoro con le paste polimeriche ai filati alle resine vende anche tutto il materiale per perlinare svaroschi pietre minuteria ha un vastissimo catalogo anche di materiale per il cucito creativo e anche per il ricamo quindi vi invito a dare un'occhiata al sito web perché sicuramente troverete qualcosina che vi rimarrà attaccato alle dita spesso e volentieri fanno anche degli ottimi sconti in più vi lascio anche il mio codice sconto vlart 35 scritto tutto in maiuscolo ma comunque non vi preoccupate perché anche il codice sconto ve lo metto giù nell'infobox che vi dà il diritto a usufruire del 35 per cento di sconto su tutti i prodotti disponibili sul catalogo ed è anche una scontistica accumulabile con altre offerte per il tutorial di oggi ho deciso di utilizzare questa fettuccia che mi è stata appunto fornita molto gentilmente da due tu è una fettuccia a 100 per cento in materiale riciclato 80 per cento cotone di alta qualità riciclato 20 per cento altre fibre riciclate l'azienda olandese è la hook ed linea ribon xl la colorazione è rxl 46 early due è un color acquamarina molto chiaro è una fettuccia grossolana ma allo stesso tempo morbida piatta la bobina pesa 250 grammi per il progetto ne utilizzeremo poco meno di metà quindi con una bobina intera tranquillamente possono venirci fuori due cestini porta oggetti qui consigliano ferri e uncinetti dal 10 al 12 ma vedremo che io utilizzerò un uncinetto misura 8 dopo aver provato a utilizzare sia la misura 12 che la 10 mi sono resa conto che per il progetto che avevo in mente erano misure troppo grosse erano calibri troppo grandi perciò secondo me con una misura 8 andate col vento in poppa materiali di cui abbiamo bisogno per il progetto che vedremo assieme oggi una bobina di fettuccia se non avete la ribon xl della hook ed ma avete qualsiasi altro tipo di fettuccia o anche la juta va benissimo un uncinetto adeguato lavorare il filato che avete scelto ripeto nel mio caso utilizzerò un uncinetto misura 8 paio di forbici un marca punti e infine un ago da lana di questi con la cruna grande e la punta stondata e ovviamente guai a dimenticare il nostro dinosauro da compagnia bene cominciamo il nostro tutorial avviando un cerchio magico scusate se risulterò un po impacciata ma ho sempre la fotocamera davanti sul trespolo e ho i polsi bloccati spero comunque riusciate a vedere bene lo stesso facciamo una catenella per bloccare il cerchio magico a questo punto cosa facciamo all'interno del cerchio lavoriamo sei punti bassi 1 2 3 4 5 e 6 praticamente il modulo che cominciamo adesso a sviluppare in tondo è la lavorazione basica dell'amigurumi quindi i sei punti bassi poi stringiamo leggermente il capo del cerchio magico il nostro primo giro quindi è terminato ora non chiudiamo il giro perché con la lavorazione ad amigurumi si procede lavorando in tondo e in continuo bene ora puntiamo l'uncinetto nel primo punto che abbiamo lavorato con la fettuccia è sempre un pochino più ostico perché è molto spesso come filato entriamo e lavoriamo due punti bassi 1 e 2 e posizioniamo il marca punti nel primo punto basso che abbiamo lavorato perché abbiamo così iniziato il secondo giro questo secondo giro prevede un aumento in ogni punto basso per cui se al termine del primo giro avevamo sei punti bassi ora al termine del secondo giro dovremo avere 12 punti bassi perché in ogni punto basso che ci ritroviamo del primo giro dobbiamo lavorare due punti bassi 11 e 12 e abbiamo così terminato il nostro secondo giro se ogni tanto il forellino del cerchio magico tende un po ad allargarsi perché comunque la fettuccia è elastica tiriamo semplicemente in modo delicato il codino e vediamo che il nostro foro si restringe poi comunque non vi preoccupate perché al termine di tutta la lavorazione andremo a cucire in modo da nascondere il capo di inizio di fine lavoro bene ora iniziamo il terzo giro sganciamo un attimo il marca punti e nel primo punto lavoriamo un punto basso e riposizioniamo il marca punti questo terzo giro prevede l'alternanza di un singolo punto basso e un aumento quindi nel punto successivo faremo un aumento ovvero due punti bassi 1 e sempre nello stesso punto il secondo dopo di che nel punto seguente un punto basso e in quello successivo ancora l'aumento di uno e due e così via per tutto il giro dovremo ritrovarci alla fine del terzo giro con 18 punti bassi 17 e 18 per il quarto giro sganciamo il marca punti e lavoriamo un punto basso e rimettiamo il marca punti dopodiché nel punto successivo lavoriamo un altro punto basso e nel punto seguente lavoriamo l'aumento quindi due punti bassi per questo quarto giro la sequenza quindi sarà due singoli punti bassi più l'aumento e alla fine del giro dovremmo ritrovarci con 24 punti bassi 23 e 24 abbiamo così terminato con mamma sono diventata arancione abbiamo così terminato il nostro quarto giro ora sganciamo il marca punti e iniziamo il quinto giro punto basso nel punto basso che ci troviamo e rimettiamo il marca punti ora la sequenza sarà di 123 singoli punti bassi e l'aumento vedete che l'aumento andrà sempre a finire nell'aumento sottostante quindi è anche facile riuscire a tenere un attimo il conto ok quindi la sequenza per questo quinto giro sarà tre singoli punti bassi e un aumento alla fine del giro dovremo contare 30 punti bassi 29 e 30 bene abbiamo terminato il nostro quinto giro ora per il sesto giro andiamo avanti con gli incrementi quindi sganciamo il marca punti nel punto seguente lavoriamo un punto basso e rimettiamo il marca punti dopo di che lavoriamo una sequenza di quattro singoli punti bassi quindi uno due tre quattro e poi l'aumento quindi uno e due punti bassi assieme procediamo così per tutto il giro quindi quattro singoli punti bassi più l'aumento alla fine del giro dovremo contare 36 punti bassi e 36 ok abbiamo così terminato questo sesto giro per il settimo giro adesso vediamo un pochino differenziarsi l'andamento dei punti quindi sganciamo il marca punti e nel punto che troviamo che prima era marcato dal nostro segna punti lavoriamo tre punti bassi tutti nello stesso punto due e tre rimettiamo il marca punti nel primo dei tre punti poi per tutto il resto del giro dobbiamo semplicemente lavorare un punto basso nel suo punto basso sottostante alla fine di questo settimo giro dobbiamo contare 38 punti bassi l'ultimo il trentottesimo punto basso lo lavoriamo nell'ultimo punto basso del giro prima dei nostri tre punti bassi prima del gruppetto cioè praticamente il trentottesimo punto lo lavoriamo nel punto precedente a quello contrassegnato dal marca punti ok iniziamo l'ottavo giro togliamo il marca punti dal primo dei tre punti bassi e nel primo lavoriamo un punto basso e rimettiamo il marca punti sempre per tenere ben visibile l'inizio del nuovo giro nel secondo punto del gruppetto dei tre quindi nel punto centrale del nostro trio lavoriamo di nuovo tre punti bassi tutti nello stesso punto quindi uno due e tre dopo di che cosa facciamo procediamo lavorando un punto basso in ogni punto basso sottostante fino a ritornare al punto precedente il nostro marca punti quindi al termine di questo giro dovremo contare in tutto 40 punti bassi ok abbiamo terminato così il nostro ottavo giro ora per il nostro nono giro sganciamo il marca punti e per arrivare sempre al punto centrale del gruppetto dei tre dobbiamo lavorare due punti bassi quindi uno e rimettiamo il nostro marca punti che fine ha fatto ecco qua poi secondo punto basso e ora ci ritroviamo al secondo punto basso dei tre quindi entriamo e di nuovo lavoriamo tre punti bassi uno due e tre dopodiché come procediamo di nuovo lavoriamo un punto basso in ogni punto sottostante per tutto il giro e ci fermeremo proprio nel punto basso precedente quello in cui abbiamo messo il marca punti e dovremo contare in tutto 42 punti bassi bene abbiamo terminato il nono giro ora per il decimo giro sganciamo nuovamente il marca punti e per arrivare fino al punto centrale dei tre dobbiamo lavorare tre punti bassi quindi uno e rimettiamo il marca punti uno due e tre arrivati al punto basso di mezzo del gruppetto dei tre lavoriamo i tre punti bassi tutti assieme uno due e tre e di nuovo ora lavoriamo un punto basso in ogni punto sottostante e ci ritroveremo alla fine del giro con 44 punti bassi ok abbiamo terminato il decimo giro ci ritroviamo esattamente in questo punto ora per l'undicesimo io sono sempre più rossa non capisco perché la fotocamera starà cominciando a dare segni di cedimento ora dobbiamo muoverci lavorando un punto basso in ogni punto basso sottostante fino a raggiungere il punto centrale dei tre quindi il punto mezzano del gruppettino di tre quindi sganciamo il marca punti e lavoriamo uno due tre quattro e poi lavoriamo un punto basso nel punto mezzano ora lavoriamo dodici catenelle perché dobbiamo formare l'asola quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici rientriamo nello stesso punto dal quale siamo partiti quindi sempre il punto di mezzo del gruppo dei tre e di nuovo punto basso e abbiamo così formato la nostra asola a questo punto come procediamo lavoriamo otto singoli punti bassi ciascuno lavorato nel punto basso sottostante quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto poi lavoriamo tredici diminuzioni come si fa la diminuzione a punto basso allora puntiamo l'uncinetto nel punto successivo agganciamo il filo lo portiamo fuori ripuntiamo l'uncinetto nel punto seguente di nuovo riagganciamo il filo lo portiamo fuori abbiamo tre archetti riagganciamo il filo e lo facciamo uscire di tutti e tre e così abbiamo fatto una diminuzione di punti bassi dobbiamo fare così per tredici volte quindi tredici punti bassi diminuiti ecco qua ho fatto la tredicesima diminuzione ora finiamo il giro con otto singoli punti bassi praticamente lavoriamo in modo speculare rispetto a questa prima parte quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto e saltiamo l'ultimo punto basso abbiamo così terminato l'undicesimo giro ora terminiamo questo cestino con il dodicesimo giro puntando direttamente l'uncinetto all'interno dell'asola e dobbiamo lavorare dodici punti bassi che praticamente sono il rinforzo dell'asola stessa quindi due tre quattro cinque sei dodici ecco qua dodici punti bassi di rinforzo dell'asola dopodiché cosa facciamo saltiamo il primo punto basso che incontriamo così come abbiamo saltato l'ultimo del termine giro precedente puntiamo l'uncinetto nel secondo punto basso e chiudiamo con un punto bassissimo e ora praticamente chiudiamo tutto il giro lavorando in ogni punto basso sottostante un punto bassissimo e poi procediamo così fino alla fine del giro siamo arrivati alla fine del dodicesimo giro il nostro cestino è quasi pronto chiudiamo l'ultimo punto bassissimo e poi con le forbici tagliamo una spanna abbondante di fettuccia sganciamo sganciamo l'uncinetto e questo è il nostro cestino quasi terminato ora prendiamo un ago da lana perché dobbiamo cucire i due capi di inizio e fine lavoro questo eventualmente possiamo anche chiuderlo con un nodino molto molto serrato e poi tagliare il filo senza preoccuparci di nasconderlo all'interno della lavorazione questo invece che è il terminale lo facciamo passare attorno all'asola stringendo bene tirando un pochino in modo tale da unire i due lembi dell'asola vedete perché altrimenti rimarrebbe un po' troppo morbida quindi tiriamo la fettuccia la facciamo passare con un paio di giri attorno poi cosa facciamo inseriamo la fettuccia nella cruna del nostro ago e poi ora con una serie di passaggi avanti e indietro sopra e sotto andiamo a nascondere una parte del capo di questa fettuccia che abbiamo tagliato poi chiudiamo con un nodino molto molto stretto e tagliamo il filo in eccesso ed ecco qui pronto il nostro cestino porta oggetti a forma di goccia io lo trovo davvero molto molto carino e l'ho realizzato per il bagno che ho qui di sopra perché io perdo sempre puntualmente forcine le cremine i profumini campione un po' le bustine di shampoo di crema corpo in questo modo tengo tutto assieme non rischio di perdere nulla poi con la sua asola è davvero comodissimo perché basta avere un chiodino e lo potete appendere dove volete possiamo realizzare anche un set di due tre cestini anche in colorazioni diverse e regalarlo per un'occasione particolare o proprio un pensierino creativo che secondo me risulterebbe molto molto gradito se non vogliamo utilizzarlo come porta oggetti possiamo anche utilizzarlo come cestino porta piantine in sospensione e secondo me è un bellissimo complemento di arredo molto semplice ma allo stesso tempo anche dal tocco rustico un po' shabby io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi possa essere utile per realizzare il vostro cestino porta oggetti o porta piantine potete benissimo anche utilizzarla appunto come idea regalo è un progettino molto semplice velocissimo da realizzare vi richiede poco materiale e poco tempo da impiegare per lavorarlo noi ci vediamo al prossimo video vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia anche oggi e vi mando un grosso abbraccio ciao 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 Grazie.